Prende corpo la Fidelisandria 2019-2020 e lo fa avvicinandosi all'annuncio di tre colpi in entrata, uno per reparto. Sono infatti pronti a vestire bianco-azzurro, manca solo l'ufficialità ma di fatto c'è massima intesa tra le parti, il giovane difensore Salvatore Salimbe, classe 2001 nella scorsa stagione al Portici, il centrocampista Giampiero Montemurro, classe 91 fresco di addio con il team Altamura e l'attaccante Savino Leonetti, Andriese Doc che a 26 anni si prepara a indossare nuovamente la divisa della Fidelis che non veste dal 2013, tre operazioni definite dal DS Vincenzo De Santis con il benestare dell'allenatore Alessandro Potenza che si sommano alle conferme maturate e pronte ad essere ufficializzate dal club bianco-azzurro, i difensori Cipollette e Porcaro, i laterali Zingaro e Variale e i centrocampisti Petruccelli e Bortoletti, uno zoccolo duro sul quale costruire la squadra che verrà, al quale si aggiungeranno presto tre volti nuovi. Salimbe, laterale mancino cresciuto nelle giovanili del Napoli, ha collezionato 27 presenze con la maglia del Portici al primo anno in prima squadra. Montemurro, 33 presenze, nell'ultima annata ad Altamura andrà a sostituire Iannini, fresco di firma con il Giuliano, dopo tre anni con i Murgiani, mentre Leonetti, a segno cinque volte tra Francaville e Insigni Altamura nell'annata 2018-2019, sarà il primo tassello di un reparto avanzato nel quale potrebbe essere confermato anche Mati Cristaldi. L'attaccante, capocannoniere della Fidelis con 11 reti nella scorsa annata, è più vicino alla conferma e le parti si incontreranno quando il giocatore rientrerà in Italia dall'Argentina. Nel Mirino, ora, c'è anche un uomo di qualità sulla tre quarti. Piace il 27enne Ezequiel Banegas, argentino da diversi anni in Italia, che nello scorso campionato ha giocato sempre in serie D, ma nel girone F, con il Francavilla calcio, segnando 13 reti tra Coppa e campionato. Mentre si pensa anche a Lorenzo Longo, classe 94, reduce dall'ottima annata vissuta a Cerignola, e già in bianco-azzurro in Lega Pro nella stagione 2017-2018. Sul calciatore barese, però, c'è una folta concorrenza rappresentata da Bitonto, Casarano e soprattutto Taranto. tanti nomi per un organico che assume forma in vista dello start del ritiro di Alfedena al via il 15 luglio.